Orsa e PRC di Messina, Circolo Peppino e Impastato esprimono perplessità sull'accordo per la falce firmato a Palermo, si rivolgono soprattutto all'amministrazione comunale che avrebbe tradito i cittadini, ai quali invece aveva promesso un confronto e massima partecipazione nei processi decisionali. Chi ha aderito alla piattaforma della manifestazione Il Mare Negato, considera anomala la tempistica stabilita nell'atto palermitano, certamente non favorevole all'apertura di un confronto pubblico. Troppa fretta per ritirare e chiudere il contenzioso tra comune e autorità portuale, troppa fretta per adottare decisioni che potrebbero cambiare il destino della zona falcata e che per questo dovrebbero essere condivise. Quali sono i motivi, si domandano oggi Orsa e PRC del ritiro a scatola chiusa del contenzioso contro l'autority, cosa ha fatto cambiare idea al primo cittadino, onerato a Corinti? Abbiamo discusso con l'autorità portuale e l'accordo è stato raggiunto pienamente. Quindi non ci sarà porticielo turistico e neanche quelle edificazioni che contestavate? No, queste cose andranno via ed è stato già concordato, è per questo che abbiamo chiuso questo accordo. Devo dire che con molta maturità con l'autorità portuale è stato trovato facilmente questo accordo. Ci sono poi i timori legati al silenzio calato sul piano di mobilità di attraversamento dello stretto che passa dalle decisioni contenute nelle PRG del porto. Orientamenti che secondo Mariano Massaro e Michele Barresi ora sono messi a repentaglio da scelte poco chiare. Infine l'appello al sindaco perché si passi dalle intenzioni ai fatti e per questo apro subito un confronto con la città per raccogliere la voce del territorio ed evitare che il futuro della zona falcata sia stabilito nel segreto delle stanze delle università o peggio da un commissario ad acta nominato dalla Regione.